A tutti gli amici di Veritas Vincit un caro saluto e facciamo il punto della situazione notizia di pochi giorni fa dei scontri al confine fra la Turchia e la Grecia sembra che Erdogan mandi alcuni poliziotti infiltrati tra i cosiddetti profughi armati o comunque con candelotti lacrimogene e roba del genere giusto per creare un po' di confusione e questo Erdogan lo fa proprio nel momento in cui l'Europa è in una fase delicata a causa del coronavirus e quindi è abbastanza vigliacco quell'uomo Erdogan dopo tutti i soldi che si è preso. Per quanto riguarda il coronavirus è notizia di oggi che il governo italiano vuole emettere un decreto valido per tutto il territorio nazionale consigliando i vecchietti sopra i 75 anni di non uscire di casa. Questo mi fa pensare che se migliaia e migliaia di vecchietti dovessero prendere sul serio questa cosa dovessero rimanere volontariamente più o meno volontariamente rinchiusi in una specie di arresti domiciliari questo potrebbe far nascere in loro un po' di depressione e si sa che la depressione porta al suicidio quindi mi pare di poter dire che gli anziani in Italia sono presi di mira già la Lagarde aveva detto che consumano troppo e insomma ci sono tendenze un po' eutanasiche ci vorrebbe quasi una forma di eutanasia non hanno il coraggio di parlare proprio di vera e propria eutanasia però i vecchietti in Italia e anche nel resto d'Europa sono presi di mira e quindi questa presunta epidemia capita giusto nel momento giusto per dare un'ammazzata a livello psicologico a migliaia migliaia di persone anziane. Noi come reazione a questa psicosi indotta dal governo perché viene dall'alto questa psicosi dovremmo reagire con uno stato d'animo di pace e serenità tenendo presente che si tratta solo di una influenza un po più pericolosa delle altre e come dice Valdo Vaccaro io ho Valdo Vaccaro nei siti amici vi consiglio di seguirlo il virus ma questo non è un'idea di Valdo Vaccaro esiste già da se non sbaglio da Claude Bernard poi è stata ripresa da Louis Pasteur dice il virus non è niente il terreno è tutto quindi se il virus arriva su un terreno su un organismo sano questo organismo sano non non si ammala se invece l'organismo è debilitato il virus fa il suo lavoro che è quello di aggravare la situazione quindi per avere un organismo sano di un sistema immunitario robusto efficiente indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il coronavirus in questo periodo indipendentemente che ci troviamo in estate o in inverno una buona soluzione per irrobustire il sistema immunitario del nostro organismo è quello dei funghi giapponesi si trovano in erboristeria il più famoso dei quali è il Ganoderma lucidum e in questa in questo barattolo ci sono c'è un mix di sei funghi diversi e il più famoso di questi funghi giapponesi il nome commerciale Reishi e il latino Ganoderma lucidum e questo lo si può prendere tutto l'anno e sempre come forma di difesa per far sì di avere un organismo sano una cosa consigliata sempre si trova in erboristeria è la zeolite la zeolite non viene dal mondo vegetale come i funghi giapponesi la zeolite viene dal mondo minerale ed è conosciuta già da molto tempo gli erboristi consigliano di aprire la capsula del contenente della zeolite bisogna dire che la zeolite serve per contrastare i metalli pesanti metalli pesanti noi li assumiamo senza accorgersene alluminio piombo cadmio e quindi ha un effetto chelante il termine tecnico è chelante cattura i metalli pesanti all'interno del nostro organismo e li espelle attraverso le vie urinarie o gli altri sistemi che il nostro organismo usa per liberarsi delle sostanze tossiche quindi una volta aperto questa capsula contenente la zeolite in polvere la si mette in un mezzo bicchiere d'acqua io lo faccio ogni giorno quando quando mi ricordo quando ho tempo non proprio tutti tutti i giorni e questo adesso farò una cosa come fanno i grandi giornalisti in televisione vi ricordate sposini al telegiornale forse non tutti si ricordano anni fa che c'era la viaria quindi il pollo era pericoloso che durante il telegiornale lamberto sposini giornalista conduttore si mise a mangiare pollo arrosto in diretta una scena abbastanza rivoltante per gli animalisti per la gente è normale che il pollo lo mangia tutti i giorni non gli ha fatto nessun effetto io quindi adesso bevo la zeolite diluita in mezzo bicchiere d'acqua contro i metalli pesanti ripeto ha un effetto chelante e lo faccio alla maniera dei più grandi giornalisti dei telegiornali ecco si potrebbe mandare giù anche la capsula così intera però arriva direttamente nello stomaco mentre se la si apre comincia a pulire già dalle prime vie quindi già dalla gola e con questo consiglio igienistico vi saluto e ci sentiamo per i prossimi video ciao a tutti e grazie dell'attenzione ciao roberto duria nickname free animals ciao